No, in questo momento no, sono molto presa da questa mia nuova sfida personale sul web e quindi sono molto concentrata su quello che effettivamente è oggi come oggi in quello che sono stati dedicati al blog mamma-bigger.com che mi sta dando stata soddisfazione per farci qualità di dedizione soprattutto per l'avviamento iniziale. L'obiettivo di questo blog qual è? E fanno diventare una sorta di, se vogliamo, un editoriale sul web quindi cimentarmi con argomenti di attualità e unito ovviamente all'endorsement quello che funziona oggi, le pubblicità del settore delle mamme e dei bambini. Quindi inizialto è una nuova ragionamento? Beh, adesso non esageriamo. Un piccolo approccio. Tante domande. Grazie. Grazie a te.